Prosegue a Palazzo Lascaris ragazzi in aula, progetto di educazione civica del consiglio regionale che permette ai giovani delle scuole secondarie di secondo grado di conoscere i processi decisionali che portano alla creazione delle leggi. I ragazzi affrontano vere e proprie sedute di commissione per approfondire le tecniche legislative e arrivare al testo definitivo che verrà discusso in aula il 5 dicembre.